Il mondo della sanità piemontese si muove in questo inizio d'agosto per programmare le campagne vaccinali di diversi generi che partiranno nei primi mesi al ritorno delle ferie. Buone nuove arrivano dalla regione Piemonte e dalle organizzazioni sindacali del settore. Saranno infatti stabilizzati i contratti di 1.137 operatori delle professioni sanitarie e sociosanitarie, in particolare infermieri, tecnici, os e assistenti sociali, che sono in possesso dei requisiti previsti dal governo, ovvero aver maturato al 30 giugno 2022 18 mesi di servizio, di cui almeno 6 nel periodo Covid. Ed ancora la proroga per altri 530 operatori fino al 31 dicembre, con contratti a tempo determinato in scadenza nel secondo semestre di quest'anno. In questo caso invece si tratta di personale sanitario e sociosanitario non in possesso dei requisiti imposti dal governo per la stabilizzazione. Per il Presidente della regione Piemonte e per l'assessore alla sanità, il recepimento dell'accordo è un'importante iniezione di personale nel sistema sanitario regionale. Stabilizzazione e proroga dei contratti del personale Covid-19 permetteranno di continuare ad assicurare le risorse necessarie per fronteggiare le urgenze del servizio sanitario e per gestire il piano di riduzione delle liste d'attesa. Non c'è invece l'accordo sulla vaccinazione per l'influenza che divide medici e farmacisti. I dottori protestano, dicono che in farmacia potranno immunizzare anche le categorie protette. Parerebbe, non voglio commentare perché non sono in grado di farlo, perché non conosco le argomentazioni, posso presumerle, posso dire che noi siamo disponibili. Ci sarà la regione con la quale noi abbiamo una convenzione e ce l'hanno anche i medici di base a stabilire se si potrà fare o meno. Non vogliamo, e questo è chiaro, prevaricare quella che è la competenza dei medici come non vogliamo che venga prevaricata quella dei farmacisti. Solo la parte delle categorie protette riguarda circa 130.000 persone che devono essere vaccinate. E' una forma comunque d'aiuto a non creare code e cose di questo genere agli ambulatori? Io penso che dipenda solo da quello. Il fatto che ci siano delle categorie protette che quindi possano essere meglio seguite da un medico, posso essere assolutamente d'accordo. Però bisogna che poi ci sia la possibilità effettivamente di vaccinare i 130.000 persone che devono essere vaccinate e che sono considerate protetti. Quindi bisognerà trovare nell'emergenza che stiamo vivendo, perché nonostante che non sia più quella di due anni fa, comunque è un'emergenza, trovare il giusto equilibrio per cercare di venire incontro anche alla popolazione e cercare di metterla in sicurezza.